Perché è impegnata? Perché vuole lavorare? Pensaci bene, usa la testa. Perché tua madre lavora? Per ogni evenienza. Per quale evenienza? Non lo so. Se tu dovessi fallire. Se non ce la facessi. No. Sì, invece, ti riempie la testa di paure. Io non lo faccio mai. Io penso a darti forza. Siamo una squadra e lo sai che significa? Sei una cazzo di stare. Per questo che io sono qui. Sono la tua cheerleader, ragazzo. Ti fidi di me? Sì, ok.